Tutto facile o quasi per la Lube Civiterova contro la Verovo a Le Monza nel recupero della quarta giornata di ritorno. 3-1 il computo dei 7 con i parziali di 25-20, 25-19, 22-25 e 25-23. Ora i ragazzi di De Giorgi saldamente al secondo posto accorciano la classifica e si portano a meno 3 dalla capolista Perugia. Sentiamo i commenti a caldo a fine match ricordando che domenica prossima i Biancorossi saranno impegnati nella trasferta di Cisterna. Bisogna stare sempre lì attaccati, nel terzo set abbiamo fatto 8 errori in battuta, più invasioni, abbiamo dato più di 10 punti. È chiaro che abbiamo perso di 3, bastava avere un pochino più di continuità. Però dai, è importante adesso fare i 3 punti e cercare di andare avanti. Piano piano lavoriamo, penso che in queste partite così dobbiamo essere più convincente a fare le cose. Per il momento andiamo, per il momento no. Penso che è nostro il problema. Siamo riusciti a farlo nei primi 2-6 quindi dobbiamo continuare a farlo anche nel finale, anche nel quarto-6. Abbiamo molato un pochino alla fine quindi dobbiamo essere più convincente su questo. Il corso mi ha fatto un campo, ho avuto l'opportunità di giocare abbastanza oggi e niente, non è stato un migliore giorno per me. Mi chiedo lavorare e lavorare tutti i giorni.